Buonasera, buon giorno, buon brazo, buonasera, tutto quello che volete voi, salve, buon giorno, l'ho detto già, andiamo avanti. Webbo quest'anno fa parte di Be You, Be You Mem, praticamente c'è di anni, ci sono due, odore burro, compratela, è bello, poi ve lo dico. L'ospite di oggi ha iniziato cantando Violet, quella la che fa, e non me la ricordo la canzone, e questo è il mondo, vabbè che comunque lascia stare. Ah, fa shopping, motocombustivo, speriamo non mi boccia l'outfit, ed è pure un'esperta, vabbè, comunque, ecco a voi, Abrina e Abragotti, Sadella, oh, una stella da dente, vieni qua, e io ti ho comprato questo perché ti sono la stella. Guarda, si abbina anche con il mio cerchio. Guarda, che coincidenza, guardala. Hai fatto apposta, dire la verità. No, assolutamente no. Senti, ti posso chiamare Abrina? Aspetta, ho un po' di difficoltà. Ho giusto la corona, scusate. Ok, ok, ci sono. Ok, ti posso chiamare Ambrina? Ambra. Ambrina è più bella? Eh, va bene. Vabbè, un ambracotto. Senti, Ambrina, è una domanda veloce, veloce, è vero che non mangi le verdure? Sì. Va bene, però basta che non ti mangi le patate. Perché vuoi mi sento male? Ieri sera le ho mangiate. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. L'ultima domanda, giusto per togliere... Ah, l'ultima? Dopo vado già via. Sì, sì, poi te ne vai. Ah, ok, ok. È giusto per togliere l'imbaraccio, capito? Che c'è all'inizio. Sei fidanzata? Dov'è il fidanzatino? Non mi aspetta anche questa questione. Eh, dove è? Eh, non c'è. Per essere stato a cuscina, cerchiamo. Eh, sì, dove hai fidanzata? No, non c'è, non mi è stato a cuscina. Ah, non c'è. Lì sotto? Eh, non lo so, vedi, tu l'hai vista? No, tu l'hai vista? No. Chi l'ha vista? No. Va bene. Allora, questa è una cosa molto semplice. ora giro la ruota, dico la formula magica, sei a mezzo, va bene. Questa è? Questa è? No, non puoi girare tu. Ma perché dovrei girare, puoi girare io? Giro, tiro torno, casca il mondo, casca la ruota e tu sei una carota e sei una patata. Abbiamo fatto il nostro frutto. Qual è vero e qual è falsa? Allora, è molto semplice questo gioco. Io ora ti dico una cosa, tu mi dici è vero o è falso. Ma cose di che tipo? E poi vediamo un po' sulle web star in generale. Ma vediamo. Devo scegliere perché sono... posso sceglierla io? No. Alice, il video del taglio della frangetta al collegio ha superato le 6 milioni di visualizzazioni su YouTube, vero o falso? Falso. Falso? È sbagliato, vero? Sono troppo forte, andiamo avanti. Sto un po' ucciso da noi a Napoli, stai acciso. Stai acciso. Eh, non so. Elena Sofia ha paura degli insetti, soprattutto che le si possano attaccare i capelli sulle braccia, vero o falso? Allora, se prima di quella era vera... Eh, ma giustamente. Questa è falsa? No, no, è vera, è vera. No, no, ho detto falso, ma è la prima pubblico che potete dire per favore? No. No, bella hai detto falso, mi dispiace. Eh, quasi vengono i soldi, che ti credo. Quindi sto già perdendo un botto di soldi. Bravo, già hai perso. Eh, ma vabbè. Andiamo avanti. Comunque mi piace la tua sedia, la volevo anch'io. No, bella, tieni di divano. Ma questo vogliono tutto costo, ma... Dove fai il cof? O non te lo rubare? Ah, Charlotte M. Perché se lo rubano all'indobbista. Ah, ok. Charlotte M. Sì. La sua prima canzone è uscita nel 2020, si intitola I love you. E ora conta oltre 7 milioni di visualizzazioni. Vero? Eh, ma fammi finire la frase, però. È un credibile. Va bene, bravo. Noi siamo due a uno, sto vingendo sempre. Ma non sei quello più difficile. Ah, Gabriele Bagnato. Non lo vede. Ha dichiarato di odiare profondamente il proprio compleanno. Che cade, cade. Regia, che avete scritto? L'8 febbraio. È vero o falso? Ehm... Wey, non ti succede. Eh, questo... Secondo me è vero. Bravia! Un po' caldo. Siamo a due pari, stai attento. Eh, però me lo faccio difficile. Su Elisa, andiamo su Elisa. Facciamo una cosa, facciamo passo e passo e finiamo così. Andiamo al prossimo gioco. Ok. Prossimo gioco. Dai, adesso la giro io. La giro tu? Piano piano. Vado? Vai, va. Piano, si rompe. Estrai la patata. Chi è? Allora... Siediti. Facciamo un'operazione chirurgica. Siediti con bosta. La schiena dritta. Ok. Allora ci sono diversi tipi di patate. Quattro per l'esattezza. Bollente, lessa, fritta e dolce. In base a cosa pesca ti faccio la domandina. È al forno o non c'è? Al forno? No, non mi piace al forno. E non l'ho messo perché non mi piace. Segui, segui. Questa. Che è? Lessa. Lessa. Falla vedere. Dammi qua, la faccio vedere. Ok, scusa. Allora, patata lessa. Ah, tiè, tiè. Fidanzatino, ma me lo vedo io. Fidanzato single, se tu fossi messa davanti a una scelta cosa sceglieresti? Ehm... Che cos'è questo silenzio? Eh, non lo so, dipende. Eh, non lo so, dipende. Questa ragazza tiene troppi segreti comunque. Hai ragione. Hai ragione. No, dipende, dipende. Dipende. Da cosa? Facciamo single. Guardiamo la telecamera due. Single. Uno, due, tre. Single. Ok, single la scelta. Andiamo avanti. Pesco un'altra patanella. Un'altra patata. Sì. Questa. Lessa di nuovo. Possiamo cambiare. Vabbè cambiare. Questa mia. Questa concezione. Ehi, che ovvio che si vende. Dolce. Dolce. Mi piace. Il video più visto sul tuo canale YouTube è una gara di danza latinoamericana. hai lasciato quello sport? Sì. Che è arrivato anche ai mondiali. Sì. E che si fa questa qua? Allora la dobbiamo. Eh, a dipendenza. Prendi. This, this. È veramente latinoamericana. Sì. E com'è quella latinoamericana? Sì. Tipo due milioni? Eh, non lo so. Me lo devi dire di più. Credo. No, un po' di più. Regia. 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 Non ti sa? Va bene, va bene. Di più, di più. Poi ve lo farei in questo periodo. Esatto. Amico, come c'è un'altra? Dai, questo è un'altra patata, amica. E ti piace? Dieni il costume. E ce l'ho messo io. Bollente. Bollente. Se ti nominassimo Daniel Maldini. Dici, dici, come dici? Beh, io ti sento. Daniel Maldini. Eh, chi è? È un calciatore. È un calciatore. È un calciatore. Del Milan. Del Milan. E che fa questo giocatore? È gioca a calci. È vero, non lo sapevamo proprio. Dici, racconta un po' di più. È un po' geloso. No, geloso. Come si dice? È timidella la ragazza. No, allora, Daniel Maldini è questo giocatore molto famoso. Lo conosci? Come? Ci siamo usciti ieri sera a cena. Sì, ci siamo ogni sabato. Esatto. E cosa devo dire? È un bel ragazzo. Poi? Andiamo oltre, dai. E poi? E poi? E poi è la mia crush. Ah! Escrivete, escrivete. L'abbiamo fatto. Questa è un'altra battaglia. Oh, l'avevo vista. No, facciamo una cosa. Un altro gioco. Esatto. Rigorosamente... Con latte, come gli inglesi. Come gli inglesi. Viu. 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 Allora, i risultati. No, voglio farne un'ora. No, non puoi farne un'ora. Scusate, me la prendete? Allora, per me... Per me vale. Va bene? Ma ti regalo una cosa. Sei contenta? La bella cosa? A non cadere, è una patata. Ti piace? È d'oro. E la regalo, questa te la metti su come? O te la metti nel bagno quando vai a fare la cacca? E come ti faccio? Brava. E la pensi, capis? Ti piace? È bellissima. E questo è l'importante. Grazie per l'attenzione. Aspetta, posso spingere il pulsante e poi salutiamo? Spinge. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione, grazie ad Ambrina, grazie a tutti quanti. Noi ci rivediamo e se non ci vediamo, accendiamo la luce. Arrivederci. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie. Voi di nuovo la car- No, non ti amo. Grazie.